Una sinergia tra le città di Modica e Siracusa per realizzare un appuntamento con l'arte, la musica, il teatro e la filosofia. I luoghi di Modica e di Siracusa saranno i palcoscenici protagonisti di questa manifestazione, organizzata dall'ente liceo convitto di Modica. Vede protagonisti sia il comune di Siracusa sia il comune di Modica. Filo rosso che unisce questi due comuni per che cosa in particolare. Viviamo in un periodo molto di crisi, questi eventi, perché di eventi si tratta, mettono l'uomo alla ricerca di qualcosa, chi siamo, dove andiamo, periodo di crisi sicuramente. La luce forse, ecco perché è bella la notte della verità, cioè dal buio può arrivare la luce e la luce cos'è? E' quella verità che cerchiamo tutti, quella verità che può venire dall'arte, può venire dalla cultura essenziale, ma può venire anche dal punto di vista escatologico da una fede, fede religiosa o meno. Ma sicuramente per uscire da questo periodo di crisi abbiamo necessità, ma dico necessità forte, di andare a cercare la verità per uscire dalla notte in cui noi purtroppo ci troviamo.